In un clima di crescente tensione che segna un momento critico per la città, il sindaco di Matera Domenico Bennardi ha rassegnato le sue dimissioni. L'annuncio giunge dopo settimane di instabilità politica culminate nella compattezza di 17 consiglieri di opposizione pronti a presentare un'omozione di sfiducia lunedì 21 ottobre. Bennardi sembra aver giocato d'anticipo. Si tratta di una strategia per prendere tempo e dissuadere l'opposizione dalla presentarsi davanti al notaio o di dimissioni definitive. Ma andiamo a qualche giorno fa tra i principali antefatti la nomina dell'assessore Salvatore che si è rivelato un errore tattico ha permesso l'ingresso in consiglio della consigliera Moroso passata immediatamente all'opposizione compromettendo ulteriormente la situazione. Il partito democratico sempre all'opposizione non ha mai condiviso un percorso con Bennardi il che rende difficile qualsiasi ipotesi di sostegno come pare abbia confermato anche l'ultima direzione del partito. Questa in sintesi le parole di Bennardi nel suo comunicato. In questi quattro anni ho lavorato dice senza sosta per migliorare Matera affrontando anche le difficoltà politiche del Consiglio Comunale. Oggi di fronte ad una crisi che non garantisce la stabilità della maggioranza ho deciso di dimettermi considerando l'ipotesi di un commissariamento. Matera ha ancora importanti progetti da realizzare dice ancora come 4 milioni di euro per le strade e i cantieri del PNRR per le scuole e infrastrutture sportive e il nuovo stadio. Ringrazio tutti per l'onore di servire la città. Credo dice in chiusura che questo sia solo un ciclo politico che si chiude e che ci sia spazio per un nuovo inizio costruito insieme alle forze riformiste e progressiste insieme a quelle forze che hanno già condiviso medesime sensibilità e recenti palchi elettorali.